buongiorno oggi vi faccio vedere una giornata non da cantiere ma una giornata da pignoni sopralluoghi e altro quindi prima cosa andiamo a prendere claudio e poi andiamo in ufficio buongiorno audio preso e ora andiamo in ufficio introdurre il denaro avvicinare la carta al lettore può introdurre una ritirare la tessera andiamo in ufficio buongiorno eccoci qua Matteo e Amos pronti per una nuova giornata allora adesso Matteo ci fa il caffè di Noemi è la maestra del caffè e poi riunione con gli altri è un parabini però è tutto un gallerone dei maestri c'è ancora una dottoressa Pirchio? mentre noi siamo a riunione Amos e Claudio partono vanno a fare la manutenzione poi si riscolterono senza senso o comunque a cui non viene dato un seguito questa cosa non è possibile perché se abbiamo dei preventivi da fare sicuramente dall'altra parte il cliente ha un interesse allora l'unione è finita adesso andiamo a fare un po' di video per i nostri consulenti e pausa pranzo e poi ricominciamo a lavorare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora giornata finita c'è stata dopo i vari video dei nostri consulenti abbiamo fatto un'altra riunione e niente adesso si ritorna a casa e ci vediamo i prossimi giorni così i prossimi giorni faremo dovremmo fare un'installazione wallbox se arriva il materiale anche di un impianto fotovoltaico e quindi ci vediamo ai prossimi giorni ciao ciao ciao